è entrato Zammata per dare più peso all'attacco del Napoli e a destra di Bombard ed è il quarto centro in campionato per il giocatore francese guardate, al volo, il pallone va a toccare il pallone, ad insaccharsi il volo è vincente, angolatissimo avete da fare ancora poi anche l'intensità, la potenza del tiro sicuramente uno dei più grandi talenti di Bombard in questo momento sulla scena mondiale del campo